The Banking Russo, e ovviamente non mi riferisco al filosofo. Questa è la storia di un imbroglio, e come tutti i grandi imbrogli è alla luce del sole, perché un imbroglio se davvero deve e può funzionare deve far girare soldi e relazioni. La storia che sto per raccontarvi dà lavoro a un mucchio di persone e fino a quando anche un piccolo granello di sabbia non si infiltrerà in questo meccanismo, l'imbroglio sarà destinato a durare ancora per tanto tempo. Per iniziare a raccontarlo io vorrei dare la parola al suo protagonista indiscusso. In questo caso, ovviamente, è Davide Casaleggio, e l'immagine che credo voi vediate dietro si riferisce alla presentazione di Russo avvenuta nell'estate del 2017 alla stampa estera. Eccola. Spero. Eccola. Sono due domande per il signor Casaleggio. Lei ha parlato di un nuovo modo di fare politica, democrazia diretta, ma a lei chi lo ha eletto, signor Casaleggio? La seconda domanda è questa piattaforma Russo di gestita da una vita privata o viene gestita dal movimento? Inizialmente Casaleggio ha sviluppato questo prodotto, questo servizio per il movimento Cinque Stelle, e lo ha fatto gratuitamente. Oggi va donato al movimento Cinque Stelle e viene gestito dall'associazione Russo, di cui tutti i bilanci sono dubbi, si prende il bilancio, l'abbiamo pubblicato qualche settimana fa. Le donazioni sono state elencate qualche giorno fa e è una micro donazione di 30 euro in media ciascuno. Anzi, aspettiamo che altri facciano anche lo stesso. Per quanto riguarda il mio ruolo, il mio ruolo è sempre stato quello di supporto al movimento Cinque Stelle. Non ho cariche elettive, non siedo in trattamento, non siedo al comune. Guarda che ci vuole una faccia da culo a dire queste cose. Mi chiedo un stipendio al movimento Cinque Stelle e sono uno dei tanti attivisti e uno dei tanti volontari che ha supportato il movimento Cinque Stelle in questi anni. Avete sentito bene, insomma, Davide Casaleggio scandisce bene le sue parole. Di bugie in questo minuto e mezzo ce ne sono parecchie. Io proverò a riassumerle. È falso che Casaleggio Associati abbia donato gratuitamente al movimento la piattaforma. Semplicemente non l'ha donata. L'ha donata all'associazione Russo, il cui presidente è lo stesso di Casaleggio Associati. Quindi c'è stato un passaggio da un'azienda a un'associazione. I servizi di Russo, invece, utilizzati dal movimento Cinque Stelle, sono blindati. Blindati per il combinato disposto di due statuti, quello di Russo e quello del movimento Cinque Stelle. Il movimento non può separarsi da Russo. I cui servizi, e qui veniamo alla gratuità, non sono gratuite. Quelli che Russo dà al movimento. Ogni mese, come è noto, tutti i parlamentari e i consiglieri regionali devono, pena l'espulsione, quindi già capite bene chi è il padrone e chi è l'inquilino, devono versare 300 euro al mese. Russo, questo ce lo dico, insomma, la matematica, che è una scienza esatta, ha ricavi annuali maggiori dell'azienda di famiglia, vale a dire Casaleggio Associati. Di questi soldi nessuno può vedere l'utilizzo che se ne fa, dei soldi che affluiscono a Russo. Quello che è certo è che Davide Casaleggio, che è il presidente a vita di Russo, non può essere scalato, non può essere messo in discussione. Li può spendere come vuole e nessuno può dirgli nulla. A occhio e croce si tratta di circa un milione e mezzo di euro l'anno. tanto per intenderci, ve la ricordate la storiella che si può fare politica a costo zero. C'è un imprenditore privato, che è ovviamente Casaleggio, che ha guadagnato e guadagna in questi ultimi due anni come mai gli era successo con la sua azienda privata, che porta il nome di suo padre. L'azienda che ha messo in piedi il sistema russo, il software russo, ha raddoppiato il fatturato nell'ultimo anno da quando il partito fondato da Davide è andato al governo e ha moltiplicato per nove volte l'utile. Quindi nel suo caso fare politica conviene. E' falso, ma è ridicolmente falso, che lui sia uno dei tanti. Lui dice io do supporto. Voi dicevate, no, i commenti dalle notizie. Io non la commento questa notizia, perché è incommentabile. E' quella. Io sono uno dei tanti che dà supporto al Movimento 5 Stelle. Perché deve nascondere il suo ruolo? Visto che lui fonda un nuovo Movimento 5 Stelle nel 2017 e lo fonda con Luigi Di Maio, che poi ne diventerà capo politico. E' sano che un personaggio pubblico menta sul proprio effettivo ruolo e sul proprio effettivo peso politico. Capite che dietro queste due bugie io ho donato e io sono solo un tecnico c'è un mondo. L'idea che io mi sono fatto è che quando si parla di certi argomenti Davide Casaleggio è davvero il massimo produttore seriale di fake news in Italia. perché non c'è un politico solitamente i politici dicono no, sono io il capo tutti vorremmo dire sono io il capo di me stesso lui è l'unico personaggio pubblico che dice no, 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 io non sono il capo non c'entro niente. Russo nasce su un letto di ospedale in una clinica a Milano dove con la firma di un uomo gravemente malato affetto da un da un tumore al cervello viene fondata l'associazione tre giorni dopo che Gianroberto Casaleggio e Davide Casaleggio, suo figlio firmano questo atto Gianroberto muore le circostanze quindi in cui nasce la testa del primo partito italiano sono dense di interrogativi la prima domanda che ci si potrebbe porre è che nessuno si è mai posto davvero pubblicamente sui media mainstream era Gianroberto era in grado di intendere di volere per esempio c'è un altro perché ve lo dico perché giustamente Barbara dice la privacy è fondamentale ma è la mia una domanda a fronte di un dato politico pubblico che riguarda anche la l'avvio o il fallimento di un nuovo governo è possibile dire ma è un dato privato è privacy oppure no questa è una domanda che io mi pongo per esempio che cosa succede un'altra particolarità di quei giorni nell'ultima testimonianza pubblica Gianroberto pochi giorni prima di morire negò in un comunicato stampa e l'ultima volta che il pubblico sentiva non la sua voce ma un suo scritto firmato nega recisamente di voler lasciare al figlio in eredità la sua creatura politica sono le stesse ore in cui fa l'esatto opposto fonda nel silenzio perché non viene detto e non verrà detto per oltre un anno che Rousseau sarebbe diventata la testa del partito un bravo un bravo poliziotto un bravo investigatore dice ha detto una cosa e ne ha fatto un'altra perché un'ennesima fake news che forse è la più grande in questa storia nel debunking russo per anni per anni c'è stato detto che l'associazione Rousseau fosse uno strumento anzi lo strumento principale per la realizzazione degli scopi del movimento questo è falso ed è falso dimostrabile come io e Marco Canestrari abbiamo dimostrato raccontando la storia di fronte al senatore alla camera dei deputati e ovviamente non c'è arrivata nessuna querela Rousseau non è la direzione del partito è prima di ogni cosa un'associazione privata di natura commerciale a cui chiunque di noi si può rivolgere tecnicamente per chiedere servizi consulenza quindi non è la segreteria di un partito non è la testa politica di un partito quello che è stato fatto se è vero come è vero che quella è un'associazione privata di natura commerciale ha privatizzato Rousseau e quindi il suo presidente è rimuovibile la democrazia del primo partito italiano e con la sua ultima uscita non so se l'avete letta sul Corriere della Sera ha reso chiaro il modello di riferimento un'oretta fa mi è fatto venire una povera perribile con le cose meravigliose che ci ha raccontato ma il modello cinese a cui Barbara Carfagna si rifaceva e raccontava e racconta da un bel po' di tempo è esattamente il modello che Davide Casaleggio ha raccontato non in un'intervista che noblesse oblige nessuno può fargli domande ma in una lettera che lui ha inviato al Corriere della Sera sulla quale in questo paese in cui si fa filosofia su tutto nessuno ha alzato il dito semplicemente per diri ma tu stai scherzando leggetelo questo suo intervento vado avanti velocemente io vi vorrei fare un esempio pensate se i processi di selezione della classe dirigente di gestione della comunicazione e di cassaforte finanziaria del PD per esempio fossero appaltati per sempre ad un ente privato di proprietà di Nicola Zingaretti o del segretario X che il PD si dà è evidente che chiunque direbbe no questa è un'altra cosa tu stai facendo affari così è avvenuto perché perché allora è importante debancare il russo perché svelare che un'azienda detiene il potere assoluto in un partito è meraviglioso per me che sono uno del novecento insomma stare poco fa stavo accanto a loro due e mi dicevo io adesso racconto il disastro tecnico di russo e quindi se dico sciocchezze per favore mi fermare no non è così appaltare il futuro della democrazia ad un'entità commerciale è ovviamente pericoloso ma lo è ancora di più se il responsabile di quell'entità commerciale dimostra non solo di non avere le competenze tecniche necessarie ma maschera la sua incompetenza tecnica con una serie di bugie io ve le ve le numero uno russo è stato pesantemente multato dal garante della privacy per circa 80.000 euro davide casaleggio ha pagato la multa e ha aggiunto ma noi già abbiamo messo a posto queste cose il garante della privacy che solitamente mantiene la privacy ha risposto in maniera secca non è vero niente voi non avete toccato i problemi dell'infrastruttura quelli che noi vi abbiamo contestato quindi prima bugia alla fine dell'ultima votazione per rimanere insomma in tema d'attualità alla fine dell'ultima votazione su russo sono state ammanzite al grande pubblico un'altra serie di bugie la prima è divertentissima casaleggio è spuntato ai microfoni di la se non sbaglio a dire a parlare di un record mondiale di votanti alle ore 13 è divertente perché non c'è un risultato parziale in nessuna votazione online al mondo che prevede a fine primo tempo hanno votato 88 per cui si è inventato qualcosa per cui gli esperti potevano dirgli no guarda questa è una sciocchezza no perché nessuno ha fatto questo questo conto guardiamo in profondità sempre i numeri che poi ci aiutano in Estonia il 3 marzo 2019 hanno soffrito il voto elettronico 247 mila persone il 45% dei degli aventi diritto tra il 4 e l'11 febbraio del 2017 Podemos ne ha portate al voto circa 150.000 la piattaforma russa ha avuto un accesso per 79.000 votanti dov'è il record è evidente che quello che loro hanno raccontato e cioè la competenza con la quale il giornalista deve affrontare con la quale deve affrontare il racconto del reale per passarlo a noi quello è fondamentale non si è alzato nessuno a dirgli scusi ma che cosa sta dicendo lui è andato avanti andiamo avanti anche noi questa l'abbiamo scoperta la notte subito dopo il voto mi pare che ne parlammo la mattina stessa con David scoprimmo la divertente bufala bastava leggere quel pdf che l'associazione Rousseau ha pubblicato con il numero dei votanti il risultato e una serie di altre caratteristiche tecniche loro dicono in questo documento lo ricorderete le votazioni sono avvenute sotto controllo di un ente terzo e cosa abbiamo fatto nel mondo digitale abbiamo preso il nome di questo di quello che loro dicono essere un ente terzo e siamo andati a vedere chi è ed è un'azienda è un'azienda anche canestrari che è del mestiere è un'azienda anche insomma fatta bene no no racconto questa cosa a te perché tu sei uno dei citati in questo mio io sono uno dei tuoi fan dei tuoi lettori ti dici sempre così quando si ha paura di quelli che poi ti entrono al computer sì sì ma a me non trova niente non ci trovo sono segreti diciamo tutti così lo diceva Andreotti ho solo abiti da sera nel mio armadio non scheleti allora questo ente terzo non era un ente terzo anche perché non c'è un albo di enti terzi al mondo è un fornitore dell'associazione Russo è uno di quelli che gli ha fatto l'architettura su cui girano i server giusto? ok esatto certo per cui è come il fabbro che tu chiami e dici mi metti la porta nuova quello arriva e tu che gli dici me la garantisci la porta che non me la aprono con due grimaldelli e qui gli dice dottore è certo ora io glielo ho detto anche in televisione non si è lamentato nessuno questo mio papà che ha 83 anni lo chiama essere cialtroni nel senso che noi non utilizziamo le cose meravigliose che la rete ci dà la velocità di informazione cioè che cosa ha detto David Parenzo tre giorni fa perché io me lo sono perso vado lì vedo il podcast ha detto questo bello interessante non l'ha fatto nessuno era semplice andiamo avanti arriviamo alla questione più delicata loro dicono che il voto su Rousseau è sicuro allora io sono sicuro di un sacco di cose che mano a mano nel corso degli anni queste sicurezze io le vado perdendo sarà appunto gli anni che passano ma di una cosa sono sicuro che tutti gli esperti di sicurezza online al mondo dicono che non esiste un voto online sicuro e questo è sicuro 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 sì lo dicono gli esperti di sicurezza lì arriviamo poi al punto di come possiamo fare o non possiamo fare giornalismo o almeno di come io mi sforzo di fare questo vi do due esempi negli Stati Uniti ogni anno mi sembra a Las Vegas c'è una riunione di nerd geniali che hanno 14 15 17 anni bene due ragazzini di 14 anni in pochi minuti hanno sfondato il sistema di voto utilizzato online il sistema elettronico che è stato usato in alcune comunità negli Stati Uniti ci hanno messo pochi minuti il rapporto di Muller su Russia Gate racconta delle cose divertentissime fra cui ce n'è una che loro tanano alcuni seggi di voto elettronico che sono stati penetrati quindi il voto non esiste ma voi ricordatevi sempre degli esperti noi stiamo parlando di democrazia digitale di un ragazzo che non ha mai lavorato in vita sua se non nell'azienda di suo papà la cui password questa è la scoperta dell'indagine del garante la cui password di accesso nel suo sistema era Davi Davi però lui verifichiamo se l'ha cambiata no ci abbiamo provato mille volte l'ha cambiata l'ha cambiata pure Zuckerberg si è espresso diciamo in maniera simile esatto ora un'altra cosa divertentissima per la quale io pensavo che questa era una puntata della Zanzara quando i giornalisti stavano a Via Morone che è la sede di Russo e l'ex sede di Casaleggio Associati e hanno assaltato messo le telecamere i microfoni davanti a un notaio per dire notaio lei ci hanno detto Davide Casaleggio che garantisce e lui ovviamente che è tipo il padrone di Russo ovviamente l'ha capito che gli stava arrivando un missile in faccia dice no io posso mettere la firma per quello che mi fanno leggere è certo ragazzi un notaio può mai entrare in un sistema e vedere se è un esperto di sicurezza informatica quello gli hanno fatto vedere la lista della spesa gli potevano far vedere anche che hanno votato in tre e gli dicevano abbiamo votato in ventimila ha scritto ve lo vorrei ricordare il notaio dice io però sono amico di Davide e sono stato anche candidato aggiungo io a proposito di ordine dei giornalisti ma qualcuno lo vuole andare a dire all'ordine dei notai che un notaio queste cose non le dovrebbe fare perché un notaio non può dire una cosa del genere non può garantire perché non lo conosce è come se io garantissi la sicurezza di una centrale nucleare ma chi diavolo ne sa niente andiamo avanti Gianni ha smontato in un pezzo perfetto uno ad uno i passaggi tecnici secondo i quali Russo è una per esempio è un sistema operativo non è un sistema operativo è un sito e per quello che mi dicono pure fatto male ricorda fra le altre cose ed è veramente uno dei pochi io cito le sue parole ricorda questo il voto online è ancora più pericoloso quando avviene su una piattaforma chiusa appartenente ad una società privata di cui non si conosce il codice sorgente né l'architettura e che non è controllata non lo dico io lo dice l'esperto e qui arriviamo al punto c'è un sociologo che viene invitato da una settimana in tv che ha preso una parcella di 180 mila euro poi parliamo della crisi del giornalismo e di vocazione 180 mila euro di soldi pubblici per due consulenze dal gruppo parlamentare della camera dei deputati per fortuna io non ce l'ho più perché credo che mi avrebbero licenziato per percosse uno di questi studi diceva che nel 2050 il lavoro sarà gratuito costo dello studio circa 60 mila euro notevole per dire che un tempo il lavoro sarà gratuito bene in televisione un tempo ce l'ha detto la televisione oggi in televisione vanno gli esperti che non sanno nulla e che parlano di cose di cui non sono esperti l'avessero invitato a parlare sulla composizione sociale degli attivisti del Movimento 5 Stelle transeat mi devi spiegare che tu sei un esperto di questa roba no lui è andato in televisione tranquillamente a dire a ci dobbiamo fidare di questa piattaforma b io li ho visti i risultati e non ho visto nulla di strano beh se me lo dice un sociologo non ha visto nulla di strano chi è il sociologo Demasi lo so però Demasi Demasi hai ragione insomma è come far parlare di medicina o di mali terribili a un Novax che ha il diploma di ragioneria e questo è poi il problema e voi lo sapete bene che tu dicevi quanto quanto è difficile è complicato ma è necessario semplificare ma perché invitare esperti che nulla sanno di quella roba lì che poi è la storia ovviamente perché se invitato uno di loro due in trasmissione a raccontare che cos'è Russo io lui l'ho invitato casca casca tutto lo so lo so vi ho visto io continuo con l'ultima con l'ultima cosa allora il tema degli esperti sia essi medici giornalisti carpintieri quello che è è centrale nello sviluppo di una realtà falsa o parallela è fondamentale ce lo rivela con una chiarezza imbarazzante poi nella sua pochezza Davide Casaleggio in questa lettera al Corriere in cui dice essenzialmente due cose uno che il popolo deve votare sempre più spesso tranne proprio in casi rari e che l'importante non è essere esperti ma dare la possibilità a tutti di dire la prova ora mi viene il paragone sempre con Giulio Andreotti perché nel nostro immaginario incarnava il potere il potere vero una volta Giulio Andreotti dissero presidente ma se lei avesse pieni poteri che cosa farebbe e lui impassibile disse solo un mucchio di sciocchezza dopo esserci liberati di un ragazzo giovane anche lui che non ha mai lavorato in vita sua è un eletto a vita che chiedeva i pieni poteri guardate che se vi andate a leggere questa lettera di Davide Casaletto lui vi sta chiedendo pieni poteri sta facendo la stessa identica cosa ammanfisce questa richiesta dei pieni poteri con un futuro che lui non capisce neanche utilizzando certe parole ve la ricordate la storiella del Sarchiapone questo animale coperto nessuno aveva il coraggio di dire non esiste il Sarchiapone questo è un paese che non ha il coraggio di dire io questa cosa non la so e siccome è interessante e siccome ne parlano e siccome io questo questo strumento lo uso tutti i giorni vado a vedere i miei colleghi che me lo spiegano lui sta facendo leva su questo sulla nostra ignoranza e sulla nostra paura essendo lui molto più ignorante e non ha come si dice a Napoli non tiene scuorno per cui dice questa cosa incredibile per cui ha problemi complessi noi dobbiamo togliere la responsabilità alle persone che eleggiamo perché curino quei problemi complessi e la dobbiamo dare a milioni di persone che di quei problemi complessi nulla sanno e che possono decidere sì o no nessun problema complesso questo ce l'hanno insegnato forse già con l'algebra nessun problema complesso si risolve con un sì o con un no e non c'è matematica e algoritmo che tenga chiudo dicendovi questo che per me è un onore un piacere essere in mezzo a voi per la seconda volta insomma questo è bello ma quello che quello che è fondamentale è che dovremmo chiedere ai nostri rappresentanti nei media io ho lui ho il mio amico Davide per cui do il tormento lo devo sono terrone lo devo toccare insomma di invitare gli esperti sono gli esperti che possono parlare di questa cosa era il sogno di Gianroberto Casaleggio a cui è noto che mi sia insomma mi sono rimasti ricordi molto belli durissimi alcuni dei quali invece affettuosi e molto belli ma una volta Gianroberto fu uno dei tanti mattoni che compose il muro che mi fece allontanare il più velocemente possibile da quel luogo quando una volta mi disse io ho creato degli avatar in carne e ossa e poi l'altra cosa della reputazione la reputazione è online io manderei in loop Davide Casaleggio che dice io sono soltanto un tecnico io aggiungo un tecnico scarso questo era il debunking russo e vi ringrazio grazie 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 a tutti.